Senz'altro gli enti locali che sono principalmente coinvolti nella pianificazione sul territorio e che devono anche sulla base della legge approvata adottare i loro strumenti conseguenti diventano protagonisti della messa in campo di queste nuove norme, lo fanno nel confronto con le associazioni di categoria, con le realtà delle imprese di costruzione, tutti i tecnici e i professionisti coinvolti. È un mondo molto ampio, il governo del territorio è il non plus ultra di ciò che si fa dentro un'amministrazione comunale, cioè progettare, pianificare e gestire la crescita, lo sviluppo, la vita di una città e del territorio che la circonda. Per questo è molto importante questa legge, era molto importante e decisivo che la approvassimo, che dessimo alla Regione Abruzzo e ai comuni uno strumento adeguato, aggiornato rispetto alle esigenze del nostro tempo e non degli anni 70 nei quali era stata pensata e pianificata la legge precedente. Poi dal confronto emergeranno anche magari le criticità, i limiti e siamo pronti grazie al confronto costruttivo anche a raccogliere le indicazioni che ci verranno per aggiornare continuamente questa norma, ma è importante sapere che oggi c'è una norma pienamente efficace e attiva che prende vita sul territorio e anche da queste occasioni di seminario, di confronto, di verifica sul campo dei suoi risultati ci attendiamo dei riscontri positivi e dei contributi costruttivi per poterla anche migliorare.